Allora, categoria, debuttanti Spirelli, Antonio, 36, Barisano, 35, però questo qua non è venuto, sta incortunato, di dietro, allora categoria cadetti, Valente Paolo, ciclistica da una torre maggiore, con punti 32, quindi vogliamo vedere anche gente nuova che vince le maglie, non sempre i soldi, mentre il carofobo che ha vinto è 26. Allora, categoria junior di Capo Alessandro. E metti tu addosso la parte, non va niente, non sta all'ospedale, domenica scorsa è caduto, allora vogliamo vedere addosso. Di Capo Big Team San Severo, per la categoria senior, Paolo Antonio Michele. Punti 26 L. Non mi sono, vedi se è bambino. Allora, per la categoria veterani. Vivere Giovanni, per un punto. Non facciamo i conti. Hai preso 10 punti, 2 è il nome lui. E sì. Allora, aspetta, la facciamo dopo. Allora, categoria generale. Primo, Cardino Giovanni, Mondo Bici, San Severo. San Severo. Punti 37. Caruso, invece, abbiamo 25 a 9. 34. Pistillo 31. Super gentleman now. P puzz破. Fricano Giovanni, Costanza per 날ni. Parlin. Pตasse. Purtito. P formala. Roberto Hamilou. Prendiamo. Luar. Pu interesting. Grazie a tutti.